ciao e benvenuti sul mio canale dove tratto il tema del narcisismo nelle relazioni ed in questo video vi voglio parlare della triangolazione ossia di quella tattica subdola che il narcisista mette in atto per tenere viva l'attenzione su di sé sono paola fendoni ipnologa scrittrice e direttrice del dipartimento di analisi e prevenzioni delle dinamiche narcisistiche nelle relazioni dell'università unimeer di miano e spero che questo video ti possa essere d'aiuto i narcisisti per attrarre creano un clima di desiderabilità creano l'idea di essere benvoluti da tutti e corteggiati da tutti uno degli obiettivi di questa strategia è quello di creare dentro di voi quel nucleo di vanità che vi farà sentire di essere il soggetto principale delle loro attenzioni le persone prescelte coloro che hanno trionfato sulla moltitudine dei loro ammiratori o ammiratrici sì l'ho detto volutamente nelle due forme in quanto le dinamiche narcisistiche le possiamo riscontrare nei narcisisti indipendentemente dal loro sesso anche se per semplicità lo declinerò sempre al maschile fatta questa premessa i narcisisti psicopatici sono abilissimi nel fabbricare un'illusione di popolarità circondandosi di persone dal sesso opposto amici ex partner e la persona che eventualmente vi sostituirà dopodiché dando inizio alla creazione di triangoli che incitano la rivalità e aumentano loro valore i narcisisti psicopatici maligni cercheranno il potere ed il controllo in pratica vogliono prevalere sui loro partner sessualmente emotivamente e fisicamente e lo fanno attraverso lo sfruttamento delle loro vulnerabilità ecco perché amano bombardarvi di attenzioni e lusinghe all'inizio del rapporto nella cosiddetta fase del love bombing non importa quanto siete forti e fiduciosi essere innamorati e lo metto tra virgolette innamorati rende qualsiasi persona vulnerabili gli narcisisti psicopatici maligni non hanno bisogno dell'aggressione fisica per controllarvi anche se molte volte la usano sono i rapporti umani a proporzionare loro l'opportunità perfetta per distruggere e portare all'esaurimento una persona con la fabbricazione di un'illusione d'amore per questo motivo alla domanda perché semplicemente non avete chiuso il rapporto fatta da persone che ignorano l'esistenza dell'abuso psicopatico non è così semplice rispondere parliamo e partiamo dal mettere nero su bianco che nessuno sano di mente inizia un rapporto immaginando di avere a che fare con un narcisista psicopatico e con la speranza di essere abusato maltrappato e criticato nella relazione con un narcisista vi siete innamorati in quanto siete stati ingannati l'innamoramento è il vincolo umano più forte mai esistito e i narcisisti psicopatici maligni lo sanno come fanno però a mantenervi legati da un vincolo così forte uno dei metodi preferiti è la triangolazione quando uso questo termine spesso colore che hanno vissuto questo tipo di relazioni pensano a chi verrà dopo di loro invece i narcisisti psicopatici maligni usano la triangolazione con grande frequenza per sembrare di essere molto quotati in modo di gettarvi nell'ossessione di sapere cosa stiano facendo nei momenti in cui non sono con voi tutti possono essere oggetto della triangolazione di cui sto parlando la vostra e la loro famiglia i vostri ed i loro amici i ex o le ex i futuri partner ed infine perfino dei perfetti sconosciuti o persone inventate i narcisisti psicopatici sentono un'intensa euforia quando mettono le persone una contro le altre specialmente quando sono loro stessi l'oggetto da contendere fabbricano situazioni per provocare gelosia e portano il partner ad obitare della loro fedeltà in un rapporto sano le persone fanno il possibile per dimostrarsi degni di fiducia mentre in un rapporto con un o una narcisista psicopatica se andrà esattamente nella direzione opposta costantemente faranno capire di avere altre possibilità oltre a voi e che potrebbero trascorrere il tempo assieme a loro il tutto per impedirvi di vivere il rapporto con grande serenità ovviamente negaranno di aver generato il vostro stato di allerta costante accusandovi di essere pazze per aver sollevato il problema il problema è che siete state abituati ad un livello altissimo di attenzione per venire attratti nella rete del narcisista psicopatico maligno e per questo sentite che c'è qualcosa di molto personale uso quando deviato usato quando deviano la loro attenzione verso altri obiettivi i narcisisti psicopatici maligni sanno l'effetto che fa in voi questa deviazione verso gli altri e così cominciano a dimenticare i piani che avete fatto assieme a passare molti giorni in compagnia di persone che hanno sempre denigrato davanti a voi a ignorarvi con la scusa di passare più tempo con la loro famiglia quando vi avevano detto sin dall'inizio di vivere in una famiglia orribile possono ad esempio arrivare a cercare conforto o sostegno da qualche ex quando un membro della loro famiglia muore giustificando il tutto in nome di un legame speciale con la persona un legame che voi non potete capire nonostante in molte occasioni hanno denigrato proprio quella persona accusandola di essere una persona abusante pazza instabile e stressante cercare l'attenzione la simpatia e il conforto di persone diverse da voi è una strategia molto comune nei narcisisti psicopatici come persona empatica e come loro partner voi legittimamente avvertite che dovrebbero cercare sostegno da voi dopo tutto non eravate voi responsabili della loro guarigione nel tempo passato non eravate voi l'unica persona con cui poteva essere se stesso con cui poteva confidarsi cos'è cambiato rispetto a prima una volta loro vi avevano raccontato di essere stati feriti maltrattati dalla vita e che voi eravate il motivo della loro felicità ora però cercano la forza in amicizie particolari oppure nei rapporti precedenti o perché voi non potete capire e sarete sempre rinfacciati di questo il che vi porta ad affrontare un altro argomento i social network gli strumenti digitali sono diventati lo strumento principale di molti narcisisti psicopatici per manipolare gli altri con la triangolazione in quanto non richiede la presenza e può essere tranquillamente messa in atto in qualsiasi momento ed a qualsiasi posto senza che ci possa essere una controprova può essere qualcosa di banale come mettere un mi piace su qualche commento di un ex di vecchia data ignorandone appositamente uno vostro possono sempre accidentalmente fare l'oplide di qualche fotografia in cui appaiono abbracciando ex baciando l'ex che una volta affermavano di odiare tutto deve sembrare non intenzionale al punto che certe volte attruite questi incidenti alla loro insensibilità o sbadataggine non vi illudete è tutto scrupolosamente calcolato studiato possono aggiornare il loro stato con parole strategicamente ambigue foto di profili ambigue musiche e video che suggeriscono che state per perderli loro condivideranno elementi intenzionalmente pensati per attrarre nuove prede ma anche vecchie fiamme per esempio potranno scrivere qualche anedotto che riguarda la nuova preda oppure una canzone d'amore che condividevano con l'ex si tratta di un modo di fare che produce due effetti il primo è quello di provocare in voi uno squilibrio crearvi ansia gelosia e ovviamente vi diranno che è solo facebook è una sciocchezza che palle sei sempre connessa sui social per spiare gli altri mi stai stalkerizzando tutto sembra troppo innocente o irrilevante per provocare una lite che se accadrà sarà sempre per colpa vostra il secondo effetto è che nella concorrenza si sentirà fiduciosa amata e speciale loro fanno ghosting negli altri e contemporaneamente corrodono la vostra identità e la vostra sanità mettendo in dubbio il vostro posto accanto a loro ottengono così due risultati solo con un colpo solo i narcisisti psicopatici vogliono generare il conflitto partendo da questi episodi perché apparentemente sono così rilevanti irrilevanti che davvero sembrate pazze nevrotiche e gelose quando sollevate il problema con grande calma vi forniranno una scusa per tutto dopodiché incolperanno voi l'abuso velato è impossibile da essere dimostrato perché strategicamente ambiguo voi non potete dimostrare che il loro obiettivo è attrarre un ex o una ex a causa di una musica postata su un social ma voi sapete intuitivamente che è così il processo di fabbricazione della pazzia è così finalizzato siamo onesti lamentarsi degli stati e dei commenti di facebook sembra immaturo o no ed è proprio così che vogliono che voi vi sentiate dopo che sono molto dato che sono molto abili nel cercare i tipi di personalità specifici per esempio persone che amano donarsi aiutare persone molto insicure persone che si sentono grandi soltanto prendendosi cura degli altri il motivo per cui la vostra devozione sembra per loro insignificante e sostituibile durante il rapporto è proprio perché hanno un battaglione di rifornimento a disposizione i narcisisti psicopatici maligni danno ad intendere che amano negli altri determinate caratteristiche e qualità che non hanno nulla a che vedere con le vostre e che a volte sono l'esatto opposto di ciò che siete il messaggio è semplice semplice tu non sei più speciale tu sei sostituibile se voi non indolatrate continuamente state certi che andranno ad attingere quello di cui hanno bisogno da altre fonti potete dare tutta l'energia positiva e l'attenzione che credete sia più che sufficiente ma ugualmente si stancheranno di voi e vi faranno credere di non avere alcun bisogno della vostra presenza perché la corte che hanno messo in piedi è perfettamente capace di cullarli e ammirarli l'immagine che vi trasmetteranno è di essere persone incredibili mirate e stimate osservate un attimo però chi sono le persone del loro circuito e scoprirete che tutti i loro fan hanno una misera miseria implicita che potrebbe essere causata dal narcisista psicopatico stesso oppure perché hanno un'intrinseca mancanza un'insicurezza una necessità di autoaffermarsi magari il desiderio di avere la popolarità che non hanno mai avuto la triangolazione finale accade quando prendono la decisione di abbandonarvi ed è in questo momento che iniziano a parlare senza freni che il rapporto tra di voi è sempre stata una sofferenza e per loro che non sanno più come agire per quanto riguarda il vostro comportamento loro possono affermare di essersi confrontati con un carissimo amico sul vostro rapporto raccontandovi nei dettagli la conversazione che avrebbero avuto con lui e su come entrambi erano concordi sulla tossicità della vostra relazione nel frattempo però ignorano spudoratamente i messaggi frenetici che inviate nel tentativo di avere un dialogo aperto razionale per risolvere il problema e salvare il rapporto quindi voi vi chiederete perché mai preferiscono manifestare le loro preoccupazioni sull'andamento del vostro rapporto a qualcun altro anziché a voi stessi i diretti interessati bene il motivo è che hanno già preso la decisione di buttarvi via e ora stanno soltanto torturandovi cercano unicamente i consigli di persone che sanno che saranno d'accordo con loro per esempio la famosa amica di cui parlano è probabilmente la loro prossima preda dopo la separazione i narcisisti psicopatici si vantano appartamente della loro velocità accanto alla nuova partner la cosa più sorprendente è che si aspettano che voi siate felici per loro per la loro nuova conquista altrimenti sarete considerate persone amare e gelose fanno inoltre una valutazione posta scarto se strisciarete e correrete ai loro piedi attribuiranno un qualche valore all'energia che ancora avete da spendere per loro andranno dallo schifo alla delizia per il vostro comportamento umiliante se invece andate all'attacco e cominciate a svelare le loro bugie faranno il possibile per portarvi all'autodistruzione potete pure tornare indietro con una richiesta di scusa ma sarete disprezzati a vita per aver osato attaccarli e contestarli sapete troppo avete visto l'essere nefasto dietro la maschera ecco perché sbandierano i nuovi partner a voi caricano fotografie e dichiarano la loro felicità online per dimostrare quanto sono felici e perfetti è l'ultimo tentativo di portarvi allo squilibrio attraverso la triangolazione per portarvi a mettere la colpa e a mettere le vostre colpe sulle nuove prede dimenticando di chi è stato il vostro aggressore è ovvio incolperete gli altri anche voi stessi poiché i disturbati siete voi mentre loro sono felici nella loro nuova vita e le ex che seguono coinvolte in qualche modo non capiscono di essere dei burattini nelle mani del narcisista psicopatico sono individui che credono di avere un ruolo importante nella sua vita sentono che saranno sempre lì per lei o per lui non comprendono di essere mantenuti nei paraggi per mettere un po' di pepe nelle situazioni ogni qual volta il soggetto psicopatico narcisista si annoia non sanno di essere all'origine dei tanti litigi non perché la loro amicizia con il narcisista psicopatico è speciale da fare invidia ma perché il narcisista psicopatico intenzionalmente crea il dramma sono persone che vivono nell'illusione che la loro amicizia con il narcisista psicopatico sia qualcosa di brillante, unico e senza precedenti quando in realtà vengono usate unicamente per triangolare com'è possibile proteggersi da questo abuso emotivo devastante? in primo luogo dobbiamo imparare cos'è l'autorispetto il punto elementare è che dovete sapere cos'è un comportamento accettabile e cosa non lo è all'interno di un rapporto dovete sapere che un partner che ti tradisce e ti rema contro non merita il tuo tempo tante volte l'abuso è talmente sottile, calcolato le menzogne e le storie triste rappresentate così bene che il partner abusato scopre cosa sta accadendo quando è troppo tardi non dovete mai rassegnarvi al pensiero che ci sia qualcosa che non va in voi pur di giustificare il comportamento veramente dubbioso di una persona è molto complicato agire quando l'abuso è sottile velato, disegnato per farvi sembrare pazzi o pazze l'idea dell'investigatore privato è un'idea semplice sempre che vi sorprenderete agendo con degli investigatori privati nei confronti di qualcuno bisogna rimuoverlo immediatamente dalla vostra vita voi agite da investigatori con lui? fate le stalker sorvegliando facebook dal partner e dei vostri ex narcisisti? o dalla sua nuova fiamma? oppure mettete un dubbio ogni sua intenzione? ovviamente no allora sapete che la causa scatenante del vostro comportamento viene dall'esterno questa sensazione di sfiducia vi può sembrare oscura e irrazionale ma fidatevi del vostro istinto se dubitate o vi preoccupate costantemente dei vostri pensieri dovete smettere di attribuire la colpa a voi stessi per cominciare a prendere delle misure che vi contrastino il vostro stato miracolosamente quando rimuoverete la persona tossica dalla vostra vita vi accorgerete che l'ansia comincerà a calare e potrete così iniziare interrogandovi se vi piace oppure no il modo come vi sentite accanto a una determinata persona nessuno ha il diritto di dire che i vostri sentimenti o le vostre sensazioni sono sbagliate spero che questo video ti sia stato d'aiuto e concludo ricordandoti di porti sempre la domanda come mi sento oggi la risposta è l'unica cosa importante per voi le relazioni tossiche lasciano cicatrici emotive di lunga durata portandovi a credere di essere dei mostri gelosi pieni di mancanze e insicuri imparate a rimarginare le vostre cicatrici partendo dalla convinzione che sono state fabbricate non eravate voi stessi siete state manipolate il vostro vero io è gentile amorevole aperto e compassionevole mai metterlo in discussione se hai bisogno di ulteriori informazioni consigli o supporto riguardo a quanto affrontato in questo video non esitare a contattarmi via email a paolafendi chiocciolagmail.com sarà un piacere poter rispondere alle tue domande e offrirti il mio aiuto